Dopo sei anni di attività, la Proloco sviluppa Agropoli cambia sede. I soci, che con entusiasmo ed energia erano soliti riunirsi nei locali di Via Pio X, potranno incontrarsi presso il Palazzo Civico delle Arti in Via Pisacane, una scelta dettata dalle nuove esigenze della Proloco che negli ultimi anni ha organizzato un numero sempre maggiore di eventi e proposto progetti importanti. La nuova sede sarà dedicata a Germano Rizzo, recentemente scomparso, figura di spicco del panorama culturale di Agropoli e fondatore della prima Proloco della città. Queste le dichiarazioni del presidente di Sviluppa Agropoli, Aldo Olivieri. A seguito della recente scomparsa di Germano Rizzo abbiamo deciso di dedicare in accordo con il sindaco Adamo Coppola e il consigliere delegato alla Cultura, Beni Culturali e Pubblica Istruzione, Franco Crispino, la nuova sede al fondatore della prima Proloco, uomo di grande valore culturale e sociale, Germano Rizzo, ha lasciato un vuoto nella nostra comunità e noi cercheremo di colmarlo impegnandoci ancora di più per la nostra Agropoli. Con impegno e volontà metteremo a disposizione per la comunità come sempre il nostro tempo, il nostro entusiasmo e adesso anche i volontari del Servizio Civile Universale. Tra tanti eventi, tanti convegni, progetti proposte, volontariato, riunioni, prosegue, abbiamo deciso di proporre all'amministrazione comunale di destinarci un'altra sede associativa. Abbiamo sentito questa necessità perché dopo tutti questi anni crediamo che alla nostra associazione occorrono nuovi spazi operativi sia per i nuovi ragazzi del Servizio Civile sia per i ragazzi del Forum dei Giovani. Da sempre infatti condividiamo la stessa sede e fortunatamente gli iscritti sono sempre più numerosi. Dunque, conclude Olivieri, una scelta dettata da fattori positivi, la crescita del gruppo di lavoro, dei ragazzi del Forum Giovanile e i nostri progetti che diventano sempre più importanti per la città di Agropoli.